E ciao a tutti ragazzi, anche se non è proprio il mio campo, proveremo a portare un attimo due novità relative al banner di venerdì, più che altro due novità e due curiosità relative al banner di venerdì. Partiamo col dire che siamo tutte le sere live siamo perché sono io con la community in live tutte le sere su Twitch, su piattaforma Viola, alle ore 22, in più c'è il canale Telegram in descrizione, in più c'è il canale Telegram delle slide che tra poco vedrete a schermo, che non sono slide fatte da me, quindi non mi prendo meriti di cose che non ho fatto. Il banner che vediamo a schermo è il banner che uscirà venerdì, come possiamo vedere stiamo un pochino cavalcando l'onda di quello che è l'anime che sta uscendo ora, quindi il continuo del famoso anime del 2018 che ha avuto uno stop di 5 anni e poi ha ripreso, vabbè di 4 dai non di 5, di 4 anni, e poi ha ripreso. L'errore grave è che nel banner vediamo tutti quanti, o almeno tutti tranne Tsubasa, con la maglietta delle medie, mentre in realtà sono tutti quanti della nazionale giapponese, quindi sono tutti quanti U16, parliamo così per intenderci meglio, del torneo di Parigi. Quindi nel contesto queste magliette, quando in realtà i giocatori non rappresentano quelle categorie, non rappresentano le medie, è totalmente sbagliato. Quindi questa per me è una piccola gaffa della Kelab. C'è da dire che però magari si potrebbero riprendere in calcio d'angolo con magari quella stupid... cioè, per me è una stupidaggine, però dico magari si potrebbero riprendere in calcio d'angolo magari mettendo la carta olografica, che quando la muovi magari appare la divisa della nazionale? Non lo so, per ora sembra un errore gravissimo. Poi magari si salvano con qualche effetto grafico. Da ricordare che queste carte escono con il background, quindi con il lato di dietro, con il lato di dietro di Halloween. Quindi potenzialmente parlando non c'è neanche la possibilità che dietro ci sia esempio la sagoma del personaggio, ma con la maglietta della nazionale. Per intenderci meglio, la carta dovrebbe uscire più o meno su per giù così. Quindi esempio Genzo, con lo sfondo di Halloween dietro, questo è lo sfondo vecchio, magari è stato cambiato, magari usano sempre lo stesso, chi lo sa. Però un esempio, diciamo, per far capire un pochino come dovrebbe essere, dovrebbe uscire così. Logicamente le slide non sono fatte da me, come vedete sotto la faccia di Genzo c'è il link di Telegram del canale che ha fatto queste slide. Logicamente ve lo inserisco anche in descrizione perché non è stato fatto da me, è giusto che chi l'abbia fatto si prende meriti per quello che ha fatto. E andiamo avanti con il discorso. Genzo. Genzo è la carta, secondo me, più shaftata del banner in assoluto. C'è da dire un però, un ma e un perché. Ok, paradossalmente sembra solo una carta passa tecniche con un pugno nuovo, quindi non sembra niente di che, non sembra niente di speciale. Ricordiamoci che nel banner c'è Matsu con passaggio nuovo, Tsubasa con nulla di nuovo a livello di skill. Genzo con pugno nuovo, quindi due carte con pugno nuovo. Due carte con pugno nuovo, sto cazzo. Due carte con skill nuova, una carta totalmente senza nessuna skill nuova, quindi una carta su cui si devono passare tecniche. Ma ok, andiamo gradualmente. Genzo, Genzo ha zona di sicurezza. Ok, non ha nulla di particolare, tranne quel team link che praticamente mi fa pensare un pochino, un pochino, un pochino, un pochino come quando nel 2020 c'erano le medie. Che si giocava con tutto il team medie, che erano tutti gaccia, un pochino come questi, perché ricordatevi che attualmente c'è in corso l'altro banner, Erkossano, Misaki e Ishizaki, che rappresentano comunque la stessa categoria, ovvero gli U16. Quindi linkerebbero perfettamente con la passiva di Genzo. Ora, non solo le statistiche di Genzo, quindi potrebbe essere sia una carta fortissima, anche se sembra brutto, sia una carta cessa. Quindi, mai dire mai, che non abbiamo le statistiche in mano, non possiamo dire niente. Da guardare, quindi da dare occhio, al fatto che lui è killer di giocatori tedeschi, che attualmente meta, come tiratore tedesco, non ce n'è neanche uno. Cioè, non ce n'è manco mezzo, no? Non ce n'è manco uno, non ce n'è manco mezzo. Quindi, passiva un po' strana, che mi fa pensare che sia una carta solo per uno scenario PvE. Però, mai dire mai, potrebbero anche buttare all'improvviso uno Snyder ultra fortissimo, che il suo Genzo può fermare, chi lo sa, la che l'hub è sempre un po' imprevedibile. Andando avanti con Iambarabacci e Ciccocco, quindi per ora, per me Genzo è totalmente nullo. Anche se, anche se, guardando team che hanno fatto in passato, magari se escono, se sicuramente usciranno, però magari se escono tanti U16, e quindi si può mettere su un buon team, con la passiva del team Link, potrebbe diventare una rivelazione. Quindi quella carta che sembra Pippa, però poi trova il suo contesto dopo un tot di tempo. Potrebbe come non potrebbe. Andiamo a vedere Tsubasa. Tsubasa, secondo me, è la carta che ha più senso in tutto il banner. anche se non ha skill nuove, non ha SS nuova, non ha nulla di particolare. Quindi mentre Matsu ha la SS nuova, che ora ci arriveremo, Tsubasa non ha nulla di nuovo. Ma Endgame. Endgame è praticamente quella passiva che più tempo passa, più il giocatore si busta. È una passiva che non vediamo ormai da un annetto, un annetto e mezzo. Vabbè, è una passiva che non vediamo da un po'. E a me piace rivedere delle cose, o almeno avere dei giocatori in campo che fanno delle cose uniche. Quindi avere l'Endgame di nuovo come passiva nel gioco non mi dispiace. L'unica cosa che spero è che la Kelab non prenda il solito vizio, quindi il solito vizio che ha sempre, di iniziare poi a spammare quella passiva su tutti i prossimi giocatori. Quindi spero che sia un'esclusiva, tra virgolette, di Tsubasa, e che non inizia ad uscire su qualsiasi personaggio. Non so se mi sono spiegato bene, spero di sì. Nel caso non mi sono spiegato bene, amen. Però spero che non venga spammata su tutti i prossimi personaggi, ma sia un'esclusiva, tra virgolette, esclusiva tra virgolette. Ok. Tsubasa, oltre a bondare bene, quindi oltre a bondare 7, che è il massimo bond che si può avere, oltre a bondare 7, c'è la linea diretta. Quindi già per la linea diretta diventa yes. Oltre alla linea diretta c'è anche il full power gaucho, quindi più skill, più passaggi, più dribbling riesce ad effettuare, più skill andate a segno riesce ad effettuare, più il full power gaucho ti aumenta. Logicamente non sappiamo di quanto ti aumenta, questo sarà detto probabilmente venerdì mattina alle 8 e mezza. Vabbè, questo non lo sappiamo ancora, però la carta non sembra male. Considerando che nella giornata blu abbiamo soltanto Tsubasa SDF, che ormai è un po' vecchietto, e non riesce comunque a segnare, riesce logicamente solo ad utilizzare le carte più deboli come trampolino, per me questo nuovo Tsubasa ci sta. Anche perché ricordatevi che l'ultimo Misaki è stato blu. Quindi ci troviamo Tsubasa blu, Misaki blu. Ci troviamo con la perfect combo. E quindi va benissimo per quello che si deve fare. Va benissimo per la giornata blu, va benissimo per la mista, va benissimo in generale. Chapeau, cioè per la mista non è vero perché nella mista c'è Tsubasa SDF. No, SDF sto cazzo, non è SDF perché, ok, vabbè avete capito, Tsubasa rosso che anche se non è un SDF è al pari di un SDF, anzi l'SDF se li mangia. Tralasciando questo, andiamo avanti, non so perché ho detto Tsubasa SDF, ma è così forte che lo puoi tranquillamente chiamare SDF e non farti nessun problema. Andando avanti con il discorso, mamma che fatica, ma quanto è difficile fare video, mamma mia. Non è più semplice fare la live, fai partire la live, pac, fatta. Mazzu, Mazzu è un po'... Vita all'area master come passiva non è una passiva che mi aggrada troppo, né mi piace né non mi piace. Il problema sono le latenze, il fatto che ha soltanto il debuff nel caso in cui perde il matchup e non può essere sigillato. C'è di potente, non ha nulla. Quindi Mazzu sembra quello... Mentre Genzo ha una possibilità futura di poter prendere qualche boost se tutto va bene, Mazzu mi... Mazzu meh... Nuovo passaggio, quindi nuovo passaggio che nel caso può essere usato a un dato, a un altro Mazzu, tipo il Mazzu DC che ancora corre, però oddio, non bruciate queste carte subito, almeno che non le prendete in doppia copia. Mazzu è quello là più... Quello là che mi crea dubbi. Genzo potrebbe trovare la sua strada nel caso in cui fanno una full U16 utile. Ricordiamoci che questa full U16 ricorda tanto le medie del 2020, che erano quasi tutti gaccia, tutti quasi personaggi che quando sono usciti sembravano senza senso, poi messi tutti quanti insieme in un contesto erano un ottimo team. Però questa è una cosa che potremmo... potremmo vedere, potremmo dire, potremmo valutare soltanto tra un mesetto, un mesetto e mezzo, quindi per ora sono carte che chi ha la possibilità le pulla e poi dopo magari va bene, tanto può essere che sono cacca. Da ricordare che sono gaccia, quindi anche se hanno lo sfondo Halloween, anche se... anche se niente, perché lo sfondo Halloween non significa... Caccia, niente. Ok, anche se hanno lo sfondo Halloween non sono delle carte limited, sono delle carte normalissime, quindi sono delle carte che potete tranquillamente trovare anche dopo, non sono delle carte che se le perdete ora non le trovate più, sono delle carte gaccia che probabilmente tra qualche mese vi ritroverete in quadrupla copia. Quindi è un banner carino, non è un banner must pull, è un banner magari per chi ha la possibilità di spendere, vuole iniziare a creare una full giapponese U16, perché penso che questo sarà il prossimo meta, la prossima squadra, la prossima viabilità. Ricordiamoci però che la Kelab tante volte inizia a creare dei team e poi se li dimentica per strada, quindi non sarebbe neanche la prima volta che la Kelab inizia un team e poi si perde strada facendo. Ma considerando che l'anime è in corso e l'anime parla solo dell'arco narrativo dell'U16, il torneo di Parigi, e loro stanno facendo i banner proprio per cercare di seguire l'anime, cercare di creare quel poco di hype sull'anime, campagna anime, bla 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 bla, sbè bè bè, dovrebbero effettivamente finire tutto il team e dovrebbero effettivamente fornire una squadra torneo di Parigi, U16 come lo volete chiamare, che abbia un senso su tutti i ruoli. Quindi teoricamente dovrebbero farli tutti, teoricamente un team su cui ci si può puntare. Per ora ha solo componenti gaccia, sicuramente durante un fine mese o un mese prossimo sicuramente avrà qualche componente DC o DF da vedere. Però la maggior parte, almeno per ora, già se parliamo di sei giocatori, gaccia. Ma che cazzo? Telegram è tutto insieme? Ok. Quindi, penso di aver detto tutto quello che volevo dire. Sicuramente mi sarò dimenticato qualcosa. Ah no, Telegram ha deciso di no. Telegram ha deciso che non posso fare questo video. Ok. Sicuramente mi sarò dimenticato qualcosa. Vi assicuro che è stato difficilissimo per me registrare questo video. Ne ho registrati tipo 22 o 23 di video. Uno peggio dell'altro. Questo forse è il peggiore in assoluto, ma non mi rimetto di nuovo a dire tutto, perché devo riprenderci la mano. Non so parlare, mi sto andando in ansia. Che cos'è? Aiuto! È più facile fare le live. Almeno c'è interazione. C'è la persona in chat che ti fa la domanda. Tu rispondi, fai interazione. Invece così parlo io, io. Cioè, guardo me stesso, ma... Ok. Va bene, comunque vi ricordo. Vi ricordo, canale Telegram in descrizione. Canale della piattaforma Viola in descrizione. Siamo tutte le sere live, tranne quando succede qualche catastrofe atomica, e quindi non posso. Per tutto il resto, vi auguro buona fortuna nel caso andate a pullare. Mi raccomando, stay safe, stay strong, e tutte quelle stronzate che si dicono quando più di video. Grazie. Grazie. Grazie.